la scena organizzata per la prima volta e qui partecipano tutte le contrade la contrada torre mette a disposizione la cucina e tutti i ragazzi delle contrade servono qui siamo in casa del mercato alle spalle del palazzo questi anni c'è questa cena questo pranzo scusate perché anche questo è palio e siena prima di parlare bisognerebbe conoscere bene che cos'è siena del palio inizio il gruppo e poi hanno partecipato tutte le 17 giornate vengono apparecchiano servono poi i ragazzi sparecchiano dopo che è stato il franzo signori se ne è questo il palio è questo grazie